Fra le tante iniziative abbiamo la possibilità anche di dare ospitalità come agriturismo e anche come fattoria didattica perché riteniamo importante comunicare soprattutto alle nuove generazioni che cosa significa produrre e produrre in maniera pulita perché purtroppo oggi c'è una distanza sempre maggiore fra quello che si consuma e come in realtà questo viene prodotto. L'industria agroalimentare offre una gamma vastissima di prodotti molto spesso concentrati anche di conservanti chimici, di coloranti, prodotti sicuramente dannosi per la salute. Ecco, riuscire a comprendere quello che effettivamente mangiamo è una cosa assolutamente fondamentale perché la salute parte proprio in prima istanza da quello che normalmente rientra nelle nostre abitudini alimentari. Quindi la fattoria didattica dà l'opportunità non soltanto ai più piccoli ma anche agli adulti di sperimentarsi, di effettuare dei laboratori pratici. A volte guardiamo con estremo stupore quando viene fuori il formaggio dal latte come anche gli adulti rimangono assolutamente sorpresi da questa magia che noi rinnoviamo di giorno in giorno e lavorare per esempio al latte crudo significa innanzitutto offrire e garantire un latte assolutamente pulito perché animali allevati al pascolo hanno una carica batterica all'interno della materia prima e quindi del latte assolutamente bassissima, contrariamente al latte industriale di animali allevati in stalla che in realtà rappresentano un grande concentrato batterico. Quindi l'industria ha la necessità di pastorizzare il latte, noi riusciamo a poter lavorare al latte crudo e che significa conservare la qualità nutrizionale e organolettica di questa straordinaria materia prima. Un formaggio al latte crudo significa sentire i profumi e i sapori del pascolo dove gli animali hanno la fortuna di poter vivere e crescere. Come gli animali a noi ci piace offrire la libertà di questi grandi spazi che abbiamo e quindi anche nell'offerta agrituristica c'è la possibilità per esempio di seguire la transumanza che noi facciamo ancora in maniera assolutamente tradizionale spostando gli animali nel periodo estivo dai pascoli di bassa quota come la sede aziendale a circa 700 metri fino ai 1500 metri dei pascoli alti. Lì gli animali stazionano per tutto il periodo estivo e quindi c'è la possibilità di provare questa esperienza incredibile di salire all'alpeggio insieme alle pecore e sentire nel calpestio tutto il silenzio della natura che ci circonda e anche i profumi di queste erbe aromatiche che vengono appunto calpestate dagli animali nel loro pascolare. È un'esperienza davvero unica che contrariamente alle beauty farm si può godere semplicemente ricreando un contatto con la natura davvero autentico. Grazie a tutti! Grazie a tutti!